guarda guarda Aurelio dai facci vedere ma senza fai chiedere il coppio oh 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 c'è quello che sta guardando c'è quello che guarda attenzione ragazzi che sei brutto ascolta vieni qua vieni qua augurio grazie ascolta vieni qua puoi fare qualche cosa grazie dove? vieni e perciò il bip urra i bip urra guarda guarda che cavolo sta facendo già un giro eh grazie 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 auguri grazie 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 un canuccino grazie